Un tentativo di aggressione ai danni di Rupert Murdoch ha causato la temporanea sospensione dell'audizione del magnate australiano del figlio James di fronte alla Camera dei Comuni di Londra. Un uomo con una camicia a scacchi gli ha lanciato addosso un piatto pieno di panna o, secondo altre fonti, di schiuma da barba. Si tratta del comico Johnny Marble, un gesto irriverente e dimostrativo dunque, ma che, unitamente alle manifestazioni all'esterno di Westminster, è il segnale della tensione che monta sul caso delle intercettazioni. Uno scandalo che rischia di dare uno scossone ai piani alti del potere in Gran Bretagna. Tanto che si ipotizzano in maniera nemmeno troppo velata le dimissioni del primo ministro Cameron. L'audizione è poi ripresa.